Ecco i ruggiti di una Ferrari Gabriella Gassler, bavarese, dottoressa, Lions, Lions della Via Salina in Bavaria, è presente ad Appassionauto, Appassionauto qui in Trentino. Lei è una Lions, chi organizza questo evento è pure Lions, Lorenzo Berlanda, Melvin Jones. Perché siete arrivati fin qui per partecipare ad Appassionauto? Siamo sulla stessa lunghezza di onda come Lions. Noi vogliamo aiutare, ho fatto la conoscenza di Lorenzo Berlanda, sono stata molto impressionata dal progetto di Lorenzo. Lui ha fatto questo invito di venire, è già la terza volta che siamo qui. Questa volta ha voluto chiedere che noi in Germania possiamo fare anche un Appassionauto tedesco. Pensiamo e credo che sarebbe possibile. Questo evento è dedicato alle persone autistiche, ai bambini disabili, Cada Sebastiano, il gruppo Amabili, come vengono chiamati. Sì, il gruppo Amabili. Una bella manifestazione di cuore, tanta solidarietà, quindi volete portare in Germania lo stesso principio. Sì, lo stesso principio anche da noi. Abbiamo anche queste case per autisti o per persone disabili, e disabili, ma credo che adesso diciamo sempre amabili. Mi piace questo perché è un'amore di dire con cuore. Senta, ci sono tanti appassionati di automobili sportive, automobili vintage, veteran car, anche in Germania ovviamente. Non è quindi una cosa impossibile organizzare un bel percorso di Appassionauto nella vostra terra. No, non è impossibile perché noi sono in una regione anche turistica, con monte e laghi e tutto, con questo castello del Ludwig II, che è molto famosissimo, che è molto famosissimo. Allora possiamo farlo, ma credo che con un'idea come aiutare qualcuno è un'altra cosa che solamente fare una rally per niente, per una riunione. Allora con un fine, uno scopo nobile. Con un fine per me sarebbe più bene. Ci vedremo in Bavaria. Spero.